Raid Ladresco nei giorni scorsi al cimitero Angeli. I gnoti malviventi si sono introdotti eludendo ogni forma di controllo presumibilmente nelle ore notturne, portando via 11 porte in alluminio da altrettante cappelle gentilizie. Altre sono state rinvenute già smontate. Nell'episodio sono state informate le autorità competenti per tentare di risalire ai responsabili. Non sarà facile, non è dato sapere ancora se l'impianto di videosorveglianza riuscirà a chiarire il caso, ma l'umore è comprensibile, disappunto, tra i familiari dei defunti sepolti nelle stesse cappelle prese di mira. Non era mai successo prima un fatto così grave, dicevano stamani al cimitero, dove si è recato una nostra troupe per girare le immagini che state vedendo. In passato erano stati asportati pluviali e altri oggetti in rame, ma in nessun caso si era registrato il furto di una sola porta. evidentemente si rende necessario rafforzare la vigilanza e soprattutto i controlli anche in orari in cui il cimitero è chiuso.